L'Università di Torino è un bene pubblico che interessa tantissime famiglie della nostra regione, della nostra città, del nostro paese. Famiglie che hanno i figli che studiano qui, che lavorano qui, che fanno ricerca in tantissimi settori, nella medicina, nella biologia, nelle scienze sociali, nella chimica. Molte delle nostre ricerche servono alle imprese a progredire, ai cittadini a vivere meglio e servono a noi a creare dei cittadini per il nostro paese. Poter utilizzare il 5 per 1000 significa avere delle risorse aggiuntive, in un momento di difficoltà che è della nostra Università come di tutta l'Università pubblica italiana. Abbiamo quindi bisogno di questo, sappiamo utilizzarlo, possiamo metterlo a frutto, possiamo moltiplicare quello che riceviamo, possiamo restituire quello che riceviamo. Pensiamoci è una scelta che non costa. Grazie a tutti.